Sale la curva dei contagi da Covid-19 in campagna, ben 3.008 casi positivi su 23.761 tamponi effettuati. Nei comuni del Napoletano c'è molta preoccupazione da parte dei sindaci. Nel comune di Torre del Greco, nella giornata di ieri, sono stati comunicati 89 nuovi casi di positività al virus, tutti fortunatamente in isolamento domiciliare. Si registrano anche 20 guarigioni. Arriva quindi a 971 il bilancio degli attualmente positivi a Torre del Greco. Si certifica un calo di nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore nel comune di Castellammare. Sono 28 le nuove positività nello stabiese. Il sindaco Cimmino. In totale sono stati lavorati 203 tamponi, per cui si alza rispetto a ieri la percentuale del rapporto tra i test lavorati nei laboratori ed i nuovi positivi. Siamo al 13,7%. Sono due infine i concittadini dichiarati guariti dalle autorità sanitarie che hanno quindi sconfitto il coronavirus. Sono 73 nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 36 guarigioni e un decesso. 396 cittadini attualmente positivi. L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un altro nostro concittadino, afferma il sindaco Vincenzo Ascione. Ai familiari della vittima va il nostro affettuoso pensiero in questo momento di grande dolore. Grazie a tutti.